Resta piuttosto stabile il tasso di positività dei campioni Covid-19 analizzati in Abruzzo nelle ultime ore. 120 tamponi positivi su 1.317 eseguiti il 9,1% e i nuovi casi hanno età compresa fra i 5 e i 94 anni. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 8 nuovi casi e sale a 1.285. Le persone decedute hanno età compresa fra i 58 e i 94 anni, ma del totale odierno tre casi fanno riferimento a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle ASL. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 11.380, meno 161 rispetto a ieri e aumentano i pazienti dimessi e guariti, più 273 per un totale di 25.208. Purtroppo aumentano anche i nuovi ricoveri, più 6 rispetto a ieri. 471 sono i pazienti ricoverati in terapia non intensiva, 38, meno 3 rispetto a ieri con un nuovo ricovero in terapia intensiva, mentre gli altri 10.871, meno 164 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte della ASL. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono complessivamente 37.873 i casi di positività al covid-19 registrati in Abruzzo.